Capitolo 1 Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ai dì di Erode, re della Giudea, vera un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliuole da Aronne e si chiamava Elisabetta. Ora erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli, perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, li toccò a sorte d'entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu torbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliuolo al quale porrà il nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore. Non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figliuoli di Israele al Signore il Dio loro. Ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza dei giusti, a fine di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, a che riconoscerò io questo? Perché io sono vecchio, e mia moglie è avanti in età. E l'angelo rispondendogli disse, io sono Gabriele che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto, e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel Tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio, ed egli faceva loro dei segni e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Ora dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, rimase incinta, e si tenne nascosta per cinque mesi dicendo, ecco quello che il Signore ha fatto per me, nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo, per togliere il mio vituperio fra gli uomini. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse, Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ed ella fu turbata a questa parola, e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. E l'angelo le disse, Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendole disse, Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprerà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse, Ecco, io sono l'ancella del Signore, sia mi fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò e se ne andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda. Ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno. Ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, e a grande voce esclamò, Benedetta sei tu fra le donne, e Benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino mi è per giubilo balzato nel seno. E beata ecco lei che ha creduto, perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e lo Spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Poiché ecco, d'ora innanzi, tutte le età mi chiameranno beata, poiché il potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuore loro, ha tratto giù dai troni i potenti, e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni i famelici, e ha rimandato a vuoto i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo. E Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne tornò a casa sua. Ora, compiutosi per Elisabetta il tempo di partorire, diede alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei, e se ne rallegravano con essa. Ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome di suo padre. Allora sua madre prese a parlare e disse, no, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero, non v'è alcuno del tuo parentado che porti questo nome. E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli chiesta una tavoletta scrisse così, il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta ed egli parlava benedicendo il Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti quelle che le udirono le servavano in cuore loro e dicevano, che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò dicendo, Benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servitore, come aveva promessa avantico per bocca dei Suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, a fine di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, li servissimo senza paura, in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su tutti quelli che giacciono in tenebra ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Ora il bambino cresceva e si fortificava in spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Capitolo 2 Ora in quei dia avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirino governava la Siria. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth in Giudea alla città di Davide chiamata Bethlehem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta. Ed avvenne che mentre erano quivi si compiè per lei il tempo del parto. Ed ella diede alla luce il suo figliuolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non verrà posto per loro nell'albergo. Ora in quella medesima contrada vi erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendè intorno a loro e temettero di grande timore. E l'angelo disse loro, non temete perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide v'è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava ai Dio e diceva, Gloria Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire fra loro, passiamo fino a Bethlehem e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. E andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Ora Maria serbava in sé tutte quelle cose collegandole insieme in cuore suo. E i pastori se ne tornarono glorificando e lodando il Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era loro stato annunziato. E quando furono compiuti gli otto giorni in capo ai quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto in nome di Gesù che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito nel seno. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in Gerusalemme per presentarlo al Signore come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore di un paio di tortere o di due giovani piccioni. Ed ecco vera in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. E quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era sopra lui. Egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima di avere veduto il Cristo del Signore. Ed egli, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio. E come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo la prescrizione della legge, se lo prese anche egli nelle braccia e benedisse il Dio e disse, «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola. Poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza, che hai preparata dinnanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele!» E il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che dicevano di lui. E Simeone li benedisse e disse a Maria madre di lui, «Ecco, questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà. E a te stessa una spada trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati». Vera anche Anna, profetessa figliola di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto attempata. Dopo essere vissuta col marito sette anni dalla sua verginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Ella non si partiva mai dal tempio servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. Sopraggiunta in quella stessa ora, lodava anche ella il Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra lui. Ora i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme, per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai dodici anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. E passati i giorni della festa, come se ne ritornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, stimando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che tre giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirno, e sua madre gli disse, figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in grande pena. Ed egli disse loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non intesero la parola che egli aveva loro detta. E discese con loro e venne a Nazareth stava loro sottoposto. E sua madre serbava tutte queste cose in cuore suo. E Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Capitolo 3 Ora, nell'anno decimo quinto dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca della Iturea e della Traconitide, e l'Isania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni figliuolo di Zaccaria nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose saranno fatte diritte, e le scabre saranno appianate, ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui, razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento, e non vi mettete a dire in voi stessi, noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo. Ed ormai è anche posta la scure alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E le turbe lo interrogavano dicendo, e allora che dobbiamo fare? Ed egli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati, e gli dissero, maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro, non riscotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Lo interrogarono pure dei soldati dicendo, e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro, non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false denunzie, e contentatevi della vostra paga. Ora, stando il popolo in aspettazione, e domandandosi tutti in cuore loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti, Ben vi battezzo io con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granario, ma quant'è alla pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Così con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo. Ma Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa, di rinchiudere Giovanni in prigione. Ora avvenne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando, s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, a guisa di colomba. E venne una voce dal cielo, «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E Gesù, quando cominciò anche egli ad insegnare, aveva circa trent'anni, ed era figliuolo, come credevasi, di Giuseppe, di Heli, di Mattat, di Levi, di Melchi, di Iannai, di Giuseppe, di Mattatia, di Amos, di Nahum, di Esli, di Nagai, di Mahat, di Mattatia, di Semein, di Iosec, di Ioda, di Ionan, di Reza, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melchi, di Addi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eliezer, di Iorim, di Mattat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Ionam, di Eliakim, di Melea, di Menna, di Mattata, di Natam, di Davide, di Ieste, di Iobed, di Boos, di Sala, di Nasson, di Aminadab, di Admin, di Arni, di Ezrom, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruc, di Ragao, di Falek, di Eber, di Sala, di Cainam, di Arfakasad, di Sem, di Noè, di Lamec, di Metusala, di Enoch, di Iaret, di Malelehel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio. Capitolo 4 Ora Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. E il diavolo gli disse, Se tu sei figliuolo di Dio, dia a questa pietra che diventi pane. E Gesù gli rispose, Sta scritto, Non di pane soltanto vivrà l'uomo. E il diavolo, Menatolo, in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo, e gli disse, Ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. E Gesù rispondendoli disse, Sta scritto, Adora il Signore il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto. Poi lo menò a Gerusalemme, e lo pose sul pinnacolo del Tempio, e gli disse, Se tu sei figliuolo di Dio, Gettati giù di qui, perché sta scritto, Egli ordinerà ai Suoi angeli intorno a te che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù rispondendoli disse, È stato detto, Non tentare il Signore il Dio tuo. Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da Lui fino ad altra occasione. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina, e insegnava nelle loro sinagoge, glorificato da tutti. E venne a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. E aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto, Lo Spirito del Signore è sopra me. Per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro, e resolo all'inserviente, si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in Lui. Ed Egli prese a dire loro, Oggi, se ad impiuta questa scrittura, e voi lo dite. E tutti gli rendevano testimonianza, e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano, Non è costui il figliuolo di Giuseppe? Ed Egli disse loro, Certo, voi mi citerete questo proverbio, Medico cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma Egli disse, In verità vi dico che nessun profeta è bene accetto nella sua patria, anzi, vi dico in verità, che ai dì di Elia, quando il cielo fu serrato per tre anni e sei mesi, e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Saretta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo, c'erano molti lebrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mondato, ma lo fu Naaman il Siro. E tutti nella sinagoga furono ripieni di ira all'udire queste cose, e levatesi lo cacciarono fuori della città e lo menarono fino sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù. Ma Egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato. Ed essi stupivano della sua dottrina, perché parlava con autorità. Ora nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di immondo demonio, il quale gridò con grande voce, «Ai, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci, io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo, «Ammutolisci ed esci da quest'uomo!» E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo, «Qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi escano!» E la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora, la suocera di Simone era travagliata da una grande febbre, e lo pregarono per lei. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella, alzatasi prontamente, si mise a servirgli. E sul tramontare del sole, tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie, rimenavano a lui, ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo, «Tu sei il figliuolo di Dio!» ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fatto sigiorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano, perché non si partisse da loro. Ma egli disse loro, «Anche alle altre città bisogna che io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato!» e andava predicando per le sinagoge della Galilea. Capitolo 5 Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago di Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi d'inso la barca, ammaestrava le turbe. E come ebbe cessato di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo appreso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segni ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. E quelli vennero e riempirono ambedue le barche tal che affondavano. Simone Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù, dicendo, «Signore, dipartiti da me, perché sono uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatto, e così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone, «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore di uomini». E essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pieno di lebra, il quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a terra, lo pregò, dicendo, «Signore, se Tu vuoi, Tu puoi mondarmi». Ed egli stesa la mano, lo toccò, dicendo, «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante la lebra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, «Ma va», gli disse, «Mostrati al sacerdote, ed offri per la tua purificazione quello che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più, e molte turbe si adunavano per udirlo ed essere guarite delle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano qui vi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e fatta un'apertura fra i tegoli, lo cararono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli veduta la loro fede disse, O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Allora gli iscrivi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo, Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù conosciuti i loro ragionamenti prese a dire loro, Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dire Levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, Io te lo dico disse al paralitico, Levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E in quell'istante alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano il Dio e pieni di spavento dicevano, Oggi abbiamo visto cose strane. E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella e gli disse, seguimi ed egli lasciata ogni cosa si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un grande convito in casa sua e c'era gran folla di pubblicani e d'altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo, perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori? E Gesù rispondendo disse loro, I sani non hanno bisogno del medico bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori a ravvedimento. Ed essi gli dissero, I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni. Così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevono. E Gesù disse loro, Potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo e quando lo sposo sarà loro tolto allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio e nessuno mette vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino nuovo rompe gli otri il vino si spande e gli otri vanno perduti ma il vino nuovo va messo in otri nuovi e nessuno che abbia bevuto del vino vecchio né desidera del nuovo perché dice il vecchio è buono capitolo 6 ora avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i seminati e i suoi discepoli svellevano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano ed alcuni dei farisei dissero perché fate quello che non è lecito nel giorno del sabato e gesù rispondendo disse loro non avete letto neppure quello che fece davide quando ebbe fame egli e coloro che erano con lui come egli entrò nella casa di dio e prese i pani di presentazione e ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui quantunque non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti e diceva loro il figliuolo dell'uomo è signore del sabato ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare e qui vi era un uomo che aveva la mano destra secca ora gli iscrivi e i farisei lo osservavano per vedere se farebbe una guarigione in giorno di sabato per trovare di che accusarlo ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca levati e sta su nel mezzo ed egli alzatosi stette su poi Gesù disse loro io domando a voi è lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male di salvare una persona o di ucciderla e girato lo sguardo intorno su tutti loro disse a quell'uomo tendi la mano egli fece così e la sua mano tornò sana ed essi furono ripieni di furore e discorrevano fra loro di quello che potrebbero fare a Gesù ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a dio e quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne lesse dodici ai quali dette anche il nome di apostoli simone che nominò anche pietro e andrea fratello di lui e giacomo e giovanni e filippo e bartolomeo e matteo e toma e giacomo dal feo e simone chiamato zelota e giuda di giacomo e giuda iscariot che divenne poi traditore e sceso con loro si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei suoi discepoli e grande quantità di popolo da tutta la giudea e da gerusalemme e dalla marina di tiro e di sidone i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti delle loro infermità e quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti e tutta la moltitudine cercava di toccarlo perché usciva da lui una virtù che sanava tutti ed egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli diceva beati che siete poveri perché il regno di Dio è vostro beati voi che ora avete fame perché sarete saziati beati voi che ora piangete perché riderete beati voi quando gli uomini vi avranno odiati e quando vi avranno sbanditi d'infra loro e vi avranno vituperati ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figliuolo dell'uomo rallegratevi in quel giorno e saltate di letizia perché ecco il vostro premio è grande nei cieli poiché i padri loro facevano lo stesso ai profeti ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione guai a voi che siete ora satolli perché avrete fame guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio e piangerete guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi perché i padri loro facevano lo stesso coi falsi profeti ma a voi che ascoltate io dico amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano benedite quelli che vi maledicono pregate per quelli che vi oltraggiano a chi ti percuote su una guancia porggigli anche l'altra e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica da a chiunque ti chiede e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare e come volete che gli uomini facciano a voi fate voi pure a loro e se amate quelli che vi amano qual grazia ve ne viene perché anche i peccatori amano quelli che li amano e se fate del bene a quelli che vi fanno del bene qual grazia ve ne viene anche i peccatori fanno lo stesso e se prestate a quelli dai quali sperate ricevere qual grazia ne avete anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché e il vostro premio sarà grande e sarete figlioli dell'altissimo poiché egli è benigno verso gli ingrati ed i malvagi siate misericordiosi com'è misericordioso il padre vostro non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e vi sarà perdonato date e vi sarà dato vi sarà versata in seno buona misura pigiata scossa traboccante perché con la misura onde misurate sarà rimisurato a voi poi disse loro anche una parabola un cieco può egli guidare un cieco non cadranno tutte e due nella fossa un discepolo non è da più del maestro ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro ora perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo proprio come puoi dire al tuo fratello fratello lascia che io ti tragga il bruscolo che hai nell'occhio mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo ipocrita trai prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo né v'è albero cattivo che faccia frutto buono poiché ogni albero si riconosce dal suo proprio frutto perché non si colgono fichi dalle spine né si vendemmia uva dal pruno l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro reca fuori il male poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca perché mi chiamate signore e signore e non fate quello che dico chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica io vi mostrerò a chi somiglia somiglia ad un uomo il quale edificando una casa ha scavato e scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia è venuta una piena la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene ma chi ha udito e non ha messo in pratica somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento la fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande capitolo 7 dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava entrò in capernaum ora il servitore di un certo centurione che l'aveva molto caro era malato e stava per morire e il centurione avendo udito parlare di Gesù gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore ed essi presentatisi a Gesù lo pregavano istantemente dicendo egli è degno che tu gli conceda questo perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha edificata la sinagoga e Gesù si incaminò con loro e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli signore non ti dare questo incomodo perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore poiché anch'io sono uomo sottoposto alla podestà altrui ed ho sotto di me dei soldati e dico ad uno va ed egli va e ad un altro vieni ed egli viene e al mio servitore fa questo ed egli lo fa udito questo Gesù restò meravigliato di lui e rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva disse io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede e quando gli inviati furono tornati a casa trovarono il servitore guarito e avvenne in seguito che egli si avviò ad una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una grande moltitudine andavano con lui e come fu presso alla porta della città ecco che si portava a seppellire un morto figliuolo unico di sua madre e questa era vedova e una grande moltitudine della città era con lei e il signore vedutala ebbe pietà di lei e le disse non piangere e accostatosi toccò la bara i portatori si fermarono ed egli disse giovinetto io te lo dico levati e il morto si levò a sedere e cominciò a parlare e Gesù lo diede a sua madre tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo e questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino e i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose ed egli chiamati a sé due dei suoi discepoli li mandò al Signore a dirgli sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro e quelli presentatisi a Gesù gli dissero Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro in quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie di flagelli e di spiriti maligni e a molti ciechi donò la vista e rispondendo disse loro andate a riferire a Giovanni quello che avete veduto e udito i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono mondati i sordi odono i morti risuscitano l'Evangelo è annunziato ai poveri e beato colui che non si sarà scandalizzato di me quando i messi di Giovanni se ne furono andati Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni che andaste a vedere nel deserto una canna dimenata dal vento ma che andaste a vedere un uomo avvolto in morbide vesti ecco quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi d'ere ma che andaste a vedere un profeta si vi dico uno più che profeta egli è colui del quale scritto ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la tua via dinanzi a te io ve lo dico fra i nati di donna non venne alcuno maggiore di Giovanni però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui e tutto il popolo che l'ha udito e anche i pubblicani hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio non facendosi battezzare da lui a chi dunque assomiglierò gli uomini di questa generazione e a chi sono simili sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino e voi dite a un demonio è venuto il figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo e voi dite ecco un mangiatore ed un beone un amico dei pubblicani e dei peccatori ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli ora uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un alabastro d'olio odorifero e stando ai piedi di lui di dietro piangendo cominciò a regargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio il fariseo che l'aveva invitato veduto ciò disse fra sé costui se fosse profeta saprebbe chi e quale sia la donna che lo tocca perché è una peccatrice e Gesù rispondendoli disse Simone ho qualcosa da dirti ed egli maestro di pure un creditore aveva due debitori l'uno gli doveva cinquecento denari e l'altro cinquanta e non avendo essi di che pagare condonò il debito ad ambe due chi di loro dunque lo amerà di più Simone rispondendo disse timo sia colui al quale ha condonato di più e Gesù gli disse hai giudicato rettamente e voltosi alla donna disse a Simone vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mai dato dell'acqua ai piedi ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato alcun bacio ma ella da che sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mai unto il capo d'olio ma ella ma unto i piedi di profumo per la qualcosa io ti dico le sono rimessi i suoi molti peccati perché ha molto amato ma colui a cui poco è rimesso poco ama poi disse alla donna i tuoi peccati ti sono rimessi e quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé chi è costui che rimette anche i peccati ma egli disse alla donna la tua fede t'ha salvata vattene in pace capitolo 8 ed avvenne inappresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio predicando ed annunziando la buona novella del regno di dio e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità maria detta maddalena dalla quale erano usciti sette demoni e giovanna moglie di cuzza amministratore d'erode e susanna ed altre molte che assistevano gesù ed i suoi coi loro beni ora come si radunava grande folla e la gente di ogni città accorreva a lui e gli disse in parabola il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono ed un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umore ed un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine nate insieme col seme lo soffocarono ed un'altra parte cadde nella buona terra e nato che fu fruttò il cento per uno dicendo queste cose esclamava chi ha orecchi da udire oda e i suoi discepoli li domandarono che volesse dire questa parabola ed egli disse a voi è dato di conoscere i misteri del regno di dio ma agli altri se ne parla in parabole affinché vedendo non veggano e odendo non intendano ora questo è il senso della parabola il seme è la parola di dio quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro affinché non credano e non siano salvati e quelli sulla roccia sono coloro i quali quando hanno udito la parola la ricevono con allegrezza ma costoro non hanno radice credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro e quello che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità e quello che è in buona terra sono coloro i quali dopo avere udita la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza ora nessuno accesa una lampada la copre con un vaso o la mette sotto il letto anzi la mette sul candeliere affinché chi entra veda la luce poiché non ve nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto né di segreto che non abbia a sapersi e a farsi palese badate dunque come ascoltate perché a chi ha sarà dato ma a chi non ha anche quello che pensa ad avere gli sarà tolto ora sua madre e i suoi fratelli vennero a lui e non potevano avvicinarlisi a motivo della folla egli fu riferito tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che ti vogliono vedere ma egli rispondendo disse loro mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro passiamo all'altra riva del lago e presero il largo e mentre navigavano egli si addormentò e calò sul lago un turbine di vento tal che la barca si impiva d'acqua ed essi pericolavano e accostatisi lo svegliarono dicendo maestro maestro noi periamo ma egli destatosi sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono e si fe bonaccia poi disse loro dov'è la fede vostra ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'uno all'altro chi è mai costui che comanda anche ai venti e dall'acqua e li ubbidiscono e navigarono verso il paese dei geraseni che è di rimpetto alla galilea e quando egli fu smontato a terra li si fece incontro un uomo della città il quale era posseduto da demoni e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava a casa ma stava nei sepolcri ora quando ebbe veduto Gesù dato un grande grido gli si prostrò dinanzi e disse con grande voce che ve fra me e te o Gesù figliuolo dell'iddio altissimo ti prego non mi tormentare poiché Gesù comandava allo spirito immondo di uscire da quell'uomo molte volte infatti esso se ne era impadronito e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti e Gesù gli domandò quale è il tuo nome ed egli rispose legione perché molti demoni erano entrati in lui ed essi lo pregavano che non comandasse loro ad andare nell'abisso ora c'era qui vi un branco numeroso di porci che pascolavano per il monte e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli ed egli lo permise loro e i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò e quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna e la gente uscì fuori a vedere l'accaduto e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi di Gesù vestito ed in buon senno e si impaurirono e quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato e l'intera popolazione della circostante regione dei geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro perché erano presi da grande spavento ed egli montato nella barca se ne tornò indietro e l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui ma Gesù lo licenziò dicendo torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te ed egli se ne andò per tutta la città proclamando quanto grandi cose Gesù aveva fatto per lui al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando ed ecco venire un uomo chiamato Jairo che era capo della sinagoga e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa dodici anni e quella stava per morire ora mentre Gesù vi andava la moltitudine lo affollava e una donna che aveva un flusso di sangue da dodici anni ed aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno accostatasi per di dietro gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò e Gesù domandò chi mi ha toccato e siccome tutti negavano Pietro e quelli che erano con lui risposero maestro le turbe ti stringono e ti affollano ma Gesù replicò qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una virtù è uscita da me e la donna vedendo che non era rimasta inosservata venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante ma egli le disse figliuola la tua fede t'ha salvata vattene in pace mentre egli parlava ancora venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli la tua figliuola è morta non incomodare più oltre il maestro ma Gesù udito ciò rispose a Iairo non temere solo abbi fede ed ella sarà salva ed arrivato alla casa non permise ad alcuno d'entrarvi con lui salvo che a Pietro a Giovanni a Giacomo e dal padre e dalla madre della fanciulla ora tutti piangevano e facevano cordoglio per lei ma egli disse non piangete ella non è morta ma dorme e si ridevano di lui sapendo che era morta ma egli presala per la mano disse ad alta voce panciulla levati e lo spirito di lei tornò ella salzò subito ed egli comandò che le si desse da mangiare e i genitori di lei sbigottirono ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quello che era avvenuto capitolo nove ora Gesù chiamati assieme i dodici diede loro podestà ed autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi e disse loro non prendete nulla per viaggio né bastone né sacca né pane né denaro e non abbiate tunica di ricambio e in qualunque casa sarete entrati in quella dimorate e da quella ripartite e quant'è a quelli che non vi riceveranno uscendo dalla città scotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro ed essi partitisi andavano attorno di villaggio in villaggio evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove ora erode il tetrarca udì parlare di tutti questi fatti e ne era perplesso perché taluni dicevano giovanni è risuscitato dai morti altri dicevano è apparso elia ed altri è risuscitato uno degli antichi profeti ma erode disse giovanni l'ho fatto decapitare chi è dunque costui del quale sento dire tali cose e cercava di vederlo e gli apostoli essendo ritornati raccontarono a gesù tutte le cose che avevano fatte ed egli presi di seco si ritirò in disparte verso una città chiamata bezzaida ma le turbe avendolo saputo lo seguirono ed egli accoltele parlava loro del regno di dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione ora il giorno cominciava a declinare e i dodici accostatisi gli dissero licenzia la moltitudine affinché se ne vada per i villaggi e per le campagne d'intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare perché qui siamo in un luogo deserto ma egli disse loro date loro voi da mangiare ed essi risposero noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo poiché vi erano cinquemila uomini ed egli disse ai suoi discepoli fateli accomodare a cerchi d'una cinquantina e così li fecero accomodare tutti poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo li benedisse li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente e tutti mangiarono e furono sazi e dei pezzi loro avanzati si portarono via dodici ceste ora avvenne che mentre egli stava pregando in disparte i discepoli erano con lui ed egli domandò loro chi dicono le turbe che io sia e quelli risposero gli uni dicono giovanni battista altri elia ed altri uno dei profeti antichi risuscitato ed egli disse loro e voi chi dite che io sia e pietro rispondendo disse il cristo di dio ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno e aggiunse bisogna che il figliuolo dell'uomo soffra molte cose e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e sia ucciso e risusciti il terzo giorno diceva poi a tutti se uno vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per me esso la salverà infatti che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo se poi ha perduto o rovinato se stesso perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del padre e dei santi angeli ora io vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di dio ed avvenne che circa otto giorni dopo questi ragionamenti Gesù prese seco Pietro Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare e mentre pregava l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne candida sfolgorante ed ecco due uomini conversavano con lui ed erano Mosè ed Elia i quali appariti in gloria parlavano della dipartenza che egli stava per compiere in Gerusalemme ora Pietro e quelli che erano con lui erano aggravati dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui e come questi si partivano da lui Pietro disse a Gesù maestro egli è bene che stiamo qui facciamo tre tende una per te una per Mosè ed una per Elia non sapendo quello che si dicesse e mentre diceva così venne una nuvola che li coperse della sua ombra e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola ed una voce venne dalla nuvola dicendo questo è il mio figliuolo l'eletto mio ascoltatelo e mentre si faceva quella voce Gesù si trovò solo ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto ora avvenne il giorno seguente che essendo essi scesi dal monte una grande moltitudine venne incontro a Gesù ed ecco un uomo dalla folla esclamò maestro te ne prego volgi lo sguardo al mio figliuolo è l'unico che io abbia ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare e a fatica si riparte da lui fiaccandolo tutto ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo ma non hanno potuto e Gesù rispondendo disse o generazione incredula e perversa fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò mena qua il tuo figliuolo e mentre il fanciullo si avvicinava il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione ma Gesù sgridò lo spirito immondo guarì il fanciullo e lo rese a suo padre e tutti sbigottivano della grandezza di Dio ora mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva egli disse ai suoi discepoli voi tenete bene a mente queste parole il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ma essi non capivano quel detto che era per loro coperto d'un velo per modo che non lo intendevano e temevano di interrogarlo circa quel detto poi sorse fra loro una disputa sul chi di loro fosse il maggiore ma Gesù conosciuto il pensiero del loro cuore prese un piccolo fanciullo se lo pose accanto e disse loro chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato poiché chi è il minimo fra tutti voi quello è grande ora Giovanni prese a dirgli maestro noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi ma Gesù gli disse non glielo vietate perché chi non è contro voi è per voi poi come si avvicinava il tempo della sua assunzione Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme e mandò davanti a sé dei messi i quali partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per prepararli alloggio ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme veduto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero signore vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi ma egli rivoltosi li sgridò e se ne andarono in un altro villaggio ora avvenne che mentre camminavano per la via qualcuno gli disse io ti seguirò dovunque tu andrai e Gesù gli rispose le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo e ad un altro disse seguitami ed egli rispose permettimi prima di andare a seppellire mio padre ma Gesù gli disse lascia i morti seppellire i loro morti ma tu va ad annunziare il regno di Dio e un altro ancora gli disse ti seguirò signore ma permettimi prima da comiatarmi da quelli di casa mia ma Gesù gli disse nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro e adatto al regno di Dio capitolo 10 ora dopo queste cose il signore designò altri settanta discepoli e li mandò a due a due dinnanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare e diceva loro bene la messe grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il signore della messe che spinga degli operai nella sua messe andate ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via in qualunque casa sarete entrati dite prima pace a questa casa e se vecchivi alcun figliuolo di pace la vostra pace riposerà su lui se no ella tornerà a voi ora dimorate in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché l'operaio è degno della sua mercede non passate di casa in casa e in qualunque città sarete entrati se vi ricevono mangiate di ciò che vi sarà messo dinnanzi guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro il regno di dio si è avvicinato a voi ma in qualunque città sarete entrati se non vi ricevono uscite sulle piazze e dite perfino la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotriamo contro a voi sappiate tuttavia questo che il regno di dio si è avvicinato a voi io vi dico che in quel giorno la sorte di sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città guai a te corazzin guai a te bezzaida perché se in tiro e in sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già anticamente si sarebbero ravvedute prendendo il cilicio e sedendo nella cenere e però nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra e tu o capernaum sarai tu forse inalzata fino al cielo no tu sarai abbassata fino all'ades chi ascolta voi ascolta me chi sprezza voi sprezza me e chi sprezza me sprezza colui che mi ha mandato ora i settanta tornarono con allegrezza dicendo signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome ed egli disse loro io mirava satana cadere dal cielo a guisa di folgore ecco io ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli in quella stessa ora Gesù giubilò per lo spirito santo e disse io ti rendo lode o padre signore del cielo e della terra perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli sì o padre perché così ti è piaciuto ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il padre né chi è il padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo e rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete poiché vi dico che molti profeti e re hanno bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite ed ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse maestro che dovrò fare per eredare la vita eterna ed egli gli disse nella legge che sta scritto come leggi e colui rispondendo disse ama il signore il dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso e gesù gli disse tu hai risposto rettamente fa questo e vivrai ma colui volendo giustificarsi disse a gesù e chi è il mio prossimo gesù replicando disse un uomo scendeva da gerusalemme a gerico e si imbatté in ladroni i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono lasciandolo mezzo morto ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e veduto colui passò oltre dal lato opposto così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino poi lo mise sulla propria cavalcatura lo menò ad un albergo e si prese cura di lui e il giorno dopo tratti fuori due denari li diede all'oste e gli disse prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più quando tornerò in su te lo renderò quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni e quello rispose colui che gli usò misericordia e Gesù gli disse va e fa tu il similiante ora mentre essi erano in cammino egli entrò in un villaggio ed una certa donna per nome Marta lo ricevette in casa sua ella aveva una sorella chiamata Maria la quale postasi a sedere ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola ma Marta era affaccendata intorno a molti servizi e venne e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma il signore rispondendole disse Marta Marta tu ti affanni e ti inquieti di molte cose ma di una cosa sola fa bisogno e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta capitolo 9 ora Gesù chiamati assieme i dodici diede loro potestà ed autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi e disse loro non prendete nulla per viaggio né bastone né sacca né pane né denaro e non abbiate tunica di ricambio e in qualunque casa sarete entrati in quella dimorate e da quella ripartite e quant'è a quelli che non vi riceveranno uscendo dalla città scotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro ed essi partitisi andavano attorno di villaggio in villaggio evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove ora Erode il tetrarca udì parlare di tutti questi fatti e ne era perplesso perché taluni dicevano Giovanni è risuscitato dai morti altri dicevano è apparso Elia ed altri è risuscitato uno degli antichi profeti ma Erode disse Giovanni l'ho fatto decapitare chi è dunque costui del quale sento dire tali cose e cercava di vederlo e gli apostoli essendo ritornati raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte ed egli presi di seco si ritirò in disparte verso una città chiamata Bethsaida ma le turbe avendolo saputo lo seguirono ed egli accoltele parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione ora il giorno cominciava a declinare e i dodici accostatisi gli dissero licenzia la moltitudine affinché se ne vada per i villaggi e per le campagne di intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare perché qui siamo in un luogo deserto ma egli disse loro date loro voi da mangiare ed essi risposero noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo poiché vi erano cinquemila uomini ed egli disse ai suoi discepoli fateli accomodare a cerchi d'una cinquantina e così li fecero accomodare tutti poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo li benedisse li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente e tutti mangiarono e furono sazi e dei pezzi loro avanzati si portarono via dodici ceste ora avvenne che mentre egli stava pregando in disparte i discepoli erano con lui ed egli domandò loro chi dicono le turbe che io sia e quelli risposero gli uni dicono giovanni battista altri elia ed altri uno dei profeti antichi risuscitato ed egli disse loro e voi chi dite che io sia e pietro rispondendo disse il cristo di dio ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno e aggiunse bisogna che il figliuolo dell'uomo soffra molte cose e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e sia ucciso e risusciti il terzo giorno diceva poi a tutti se uno vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per me esso la salverà infatti che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo se poi ha perduto o rovinato se stesso perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del padre e dei santi angeli ora io vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di dio ed avvenne che circa otto giorni dopo questi ragionamenti Gesù prese seco Pietro Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare e mentre pregava l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne candida sfolgorante ed ecco due uomini conversavano con lui ed erano Mosè ed Elia i quali appariti in gloria parlavano della dipartenza che egli stava per compiere in Gerusalemme ora Pietro e quelli che erano con lui erano aggravati dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui e come questi si partivano da lui Pietro disse a Gesù maestro egli è bene che stiamo qui facciamo tre tende una per te una per Mosè ed una per Elia non sapendo quello che si dicesse e mentre diceva così venne una nuvola che li coperse della sua ombra e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola ed una voce venne dalla nuvola dicendo questo è il mio figliuolo l'eletto mio ascoltatelo e mentre si faceva quella voce Gesù si trovò solo ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto ora avvenne il giorno seguente che essendo essi scesi dal monte una grande moltitudine venne incontro a Gesù ed ecco un uomo dalla folla esclamò maestro te ne prego volgi lo sguardo al mio figliuolo è l'unico che io abbia ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare e a fatica si diparte da lui fiaccandolo tutto ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo ma non hanno potuto e Gesù rispondendo disse o generazione incredula e perversa fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò mena qua il tuo figliuolo e mentre il fanciullo si avvicinava il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione ma Gesù sgridò lo spirito immondo guarì il fanciullo e lo rese a suo padre e tutti sbigottivano della grandezza di Dio ora mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva egli disse ai suoi discepoli voi tenete bene a mente queste parole il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ma essi non capivano quel detto che era per loro coperto d'un velo per modo che non lo intendevano e temevano di interrogarlo circa quel detto poi sorse fra loro una disputa sul chi di loro fosse il maggiore ma Gesù conosciuto il pensiero del loro cuore prese un piccolo fanciullo se lo pose accanto e disse loro chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato poiché chi è il minimo fra tutti voi quello è grande ora Giovanni prese a dirli maestro noi abbiamo veduto un tale che cacciava ai demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi ma Gesù gli disse non glielo vietate perché chi non è contro voi è per voi poi come si avvicinava il tempo della sua assunzione Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme e mandò davanti a sé dei messi i quali partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per prepararli alloggio ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme veduto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero signore vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi ma egli rivoltosi li sgridò e se ne andarono in un altro villaggio ora avvenne che mentre camminavano per la via qualcuno gli disse io ti seguirò dovunque tu andrai e Gesù gli rispose le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo e ad un altro disse seguitami ed egli rispose permettimi prima di andare a seppellire mio padre ma Gesù gli disse lascia i morti seppellire i loro morti ma tu va ad annunziare il regno di Dio e un altro ancora gli disse ti seguirò signore ma permettimi prima da comiatarmi da quelli di casa mia ma Gesù gli disse nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro e adatto al regno di Dio capitolo 10 ora dopo queste cose il signore designò altri settanta discepoli e li mandò a due a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare e diceva loro bene la messe grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il signore della messe che spinga degli operai nella sua messe andate ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via in qualunque casa sarete entrati dite prima pace a questa casa e se ve qui vi alcun figliuolo di pace la vostra pace riposerà su lui se no ella tornerà a voi ora dimorate in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché l'operaio è degno della sua mercede non passate di casa in casa e in qualunque città sarete entrati se vi ricevono mangiate di ciò che vi sarà messo dinnanzi guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro il regno di dio si è avvicinato a voi ma in qualunque città sarete entrati se non vi ricevono uscite sulle piazze e dite perfino la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotriamo contro a voi sappiate tuttavia questo che il regno di dio si è avvicinato a voi io vi dico che in quel giorno la sorte di sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città guai a te corazzin guai a te bezzaida perché se in tiro e in sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già anticamente si sarebbero ravvedute prendendo il cilicio e sedendo nella cenere e però nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra e tu o capernaum sarai tu forse innalzata fino al cielo no tu sarai abbassata fino all'ades chi ascolta voi ascolta me chi sprezza voi sprezza me e chi sprezza me sprezza colui che mi ha mandato ora i settanta tornarono con allegrezza dicendo signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome ed egli disse loro io mirava satana cadere dal cielo a guisa di folgore ecco io ho dato la podestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli in quella stessa ora Gesù giubilò per lo spirito santo e disse io ti rendo lodeo padre signore del cielo e della terra perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli sì o padre perché così ti è piaciuto ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il padre né chi è il padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo e rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte peati gli occhi che vedono le cose che voi vedete poiché vi dico che molti profeti e re hanno bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite ed ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse maestro che dovrò fare per eredare la vita eterna ed egli gli disse nella legge che sta scritto come leggi e colui rispondendo disse ama il signore il dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso e Gesù gli disse tu hai risposto rettamente fa questo e vivrai ma colui volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è il mio prossimo Gesù replicando disse un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono lasciandolo mezzo morto ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e veduto colui passò oltre dal lato opposto così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino poi lo mise sulla propria cavalcatura lo menò ad un albergo e si prese cura di lui e il giorno dopo tratti fuori due denari li diede all'oste e gli disse prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più quando tornerò in sutte lo renderò quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni e quello rispose colui che gli usò misericordia e Gesù gli disse va e fa tu il similiante ora mentre essi erano in cammino egli entrò in un villaggio ed una certa donna per nome Marta lo ricevette in casa sua ella aveva una sorella chiamata Maria la quale postasi a sedere ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola ma Marta era faccendata intorno a molti servizi e venne e disse signore non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire dille dunque che mi aiuti ma il signore rispondendole disse Marta Marta tu ti affanni e ti inquieti di molte cose ma di una cosa sola fa bisogno e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta capitolo undici ed avvenne che essendo egli in orazione in un certo luogo come ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ed egli disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione poi disse loro se uno fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice amico prestami treppani perché mi è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da ammetterli d'innanzi e se colui dal di dentro gli risponde non mi dare molestia già è serrata la porta e i miei fanciulli sommeco al letto io non posso alzarmi per darteli io vi dico che quando anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico pure per la importunità sua si leverà e gliene darà quanti ne ha di bisogno io altresì vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto poiché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia e chi è quel padre tra voi che se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra o se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se 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 dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli quanto più il vostro padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo domandano ora egli stava cacciando un demonio che era muto ed avvenne che quando il demonio fu uscito il muto parlò e le turbe si meravigliarono ma alcuni di loro dissero è per l'aiuto di belzebub principe dei demoni che gli caccia i demoni ed altri per metterlo alla prova chiedevano da lui un segno dal cielo ma egli conoscendo i loro pensieri disse loro ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto e una casa divisa contro se stessa rovina se dunque anche satana è diviso se stesso come potrà reggere il suo regno poiché voi dite che è per l'aiuto di belzebub che io caccio i demoni e se io caccio i demoni per l'aiuto di belzebub i vostri figlioli per l'aiuto di chi li cacciano essi perciò essi stessi saranno i vostri giudici ma se è per il dito di dio che io caccio i demoni è dunque pervenuto fino a voi il regno di dio quando l'uomo forte ben armato guarda l'ingresso della sua dimora quello che egli possiede è al sicuro ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde quando lo spirito immondo è uscito da un uomo va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice ritornerò nella mia casa donde sono uscito e giuntovi la trova spazzata e adorna allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla e l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima ora avvenne che mentre egli diceva queste cose una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti ma egli disse beati piuttosto quelli che odono la parola e affollandosi intorno a lui le turbe egli prese a dire questa generazione è una generazione malvagia e la chiede un segno e segno alcuno non le sarà dato salvo il segno di giona poiché come giona fu un segno per i niniviti così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione la regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di salomone ed ecco qui vè più che salomone i niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di giona ed ecco qui vè più che giona nessuno quando ha acceso una lampada la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio anzi la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vedano la luce la lampada del tuo corpo è l'occhio se l'occhio tuo è sano anche tutto il tuo corpo è illuminato ma se è viziato anche il tuo corpo è nelle tenebre guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre se dunque tutto il tuo corpo è illuminato senza avere parte alcuna tenebrosa sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina col suo splendore ora mentre egli parlava un fariseo lo invitò a desinare da lui ed egli entrato si mise a tavola e il fariseo veduto questo si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare e il signore gli disse voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità tolti colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto ed ecco ogni cosa sarà netta per voi ma guai a voi farisei poiché pagate la decima della menta della ruta ed ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di dio queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre guai a voi farisei perché amate i primi seggi nelle sinagoge e i saluti nelle piazze guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedano e chi vi cammina sopra non ne sa niente allora uno dei dottori della legge rispondendo gli disse maestro parlando così fai ingiuria anche a noi ed egli disse guai anche a voi dottori della legge perché caricate le genti di pesi difficili a portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito guai a voi perché edificate i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri e per questo la sapienza di Dio ha detto io manderò loro dei profeti e degli apostoli e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio si vi dico sarà ridomandato a questa generazione qua è a voi dottori della legge perché avete tolta la chiave della scienza voi stessi non siete entrati e avete impedito quelli che entravano e quando fu uscito di là gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose tendendogli dei lacci per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca capitolo 12 intanto essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia ma non ve niente di coperto che non abbia ad essere scoperto né di occulto che non abbia ad essere conosciuto perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quello che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui detti ma voi che siete miei amici io dico non temete coloro che uccidono il corpo e dopo ciò non possono fare nulla di più ma io vi mostrerò chi dovete temere temete colui che dopo avere ucciso ha podestà di gettare nella genna sì vi dico temete lui cinque passeri non si vendono per due soldi eppure non uno di essi è dimenticato dinanzi a dio anzi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non temete dunque voi siete da più di molti passeri ora io vi dico chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini anche il figliuolo dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di dio ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di dio e a chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato ma chi avrà bestemmiato contro lo spirito santo non sarà perdonato quando poi vi condurranno davanti alle sinagoge e ai magistrati e alle autorità non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quel che avrete a dire perché lo spirito santo vi insegnerà in quell'ora stessa quello che dovete dire ora uno della folla gli disse maestro di a mio fratello che divida con me l'eredità ma Gesù gli rispose o uomo chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore poi disse loro badate e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita e disse loro questa parabola la campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente ed egli ragionava così fra sé medesimo che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse questo farò demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia anima tu hai molti beni riposti per molti anni riposati mangia bevi godi ma dio gli disse stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di dio poi disse ai suoi discepoli perciò vi dico non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quello che mangerete né per il corpo di che vi vestirete poiché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito considerate i corvi non seminano non mietono non hanno dispensa né granaio eppure dio li nutrisce di quanto non siete voi da più degli uccelli e chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un cubito se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente considerate i gigli come crescono non faticano e non filano eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro ora se dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno quanto più vestirà voi o gente di poca fede anche voi non cercate che mangerete e che berrete e non estate in sospeso poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano ma il padre vostro sa che ne avete bisogno cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno sopraggiunte non temere o piccola greggia poiché al padre vostro è piaciuto di darvi il regno vendete i vostri beni e fatene elemosina fatevi delle borse che non invecchiano un tesoro che non venga meno nei cieli ove il ladro non s'accosta e tignola non guasta perché dov'è il vostro tesoro qui vi sarà anche il vostro cuore i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese e voi siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirli appena giungerà e picchierà beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti in verità io vi dico che egli si cingerà li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così beati loro ora sappiate questo che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro veglierebbe e non si lascerebbe sconficcare la casa anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà e pietro disse signore questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti e il signore rispose e quale mai l'economo fedele e avveduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la loro misura di viveri beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così in verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni ma se quel servitore dice in cuor suo il mio padrone mette in dugio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e bere e ad ubriacarsi il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli ora quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui sarà battuto di molti colpi ma colui che non l'ha conosciuto e ha fatto cose degne di castigo sarà battuto di pochi colpi e a chi molto è stato dato molto sarà ridomandato e a chi molto è stato affidato tanto più si richiederà io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra e che mi resta a desiderare se già è acceso ma v'è un battesimo del quale ho da essere battezzato e come sono angustiato finché non sia compiuto pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra no vi dico ma piuttosto divisione perché da ora innanzi se vi sono cinque persone in una casa saranno divise tre contro due e due contro tre saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera diceva poi ancora alle turbe quando vedete una nuvola venire su da ponente voi dite subito viene la pioggia e così succede e quando sentite soffiare lo scirocco dite farà caldo e avviene così ipocriti ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo e come mai non sapete discernere questo tempo e perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto quando vai col tuo avversario davanti al magistrato fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui che talora egli non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo capitolo tredici in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei galilei il cui sangue pilato aveva mescolato coi loro sacrifici e gesù rispondendo disse loro pensate voi che quei galilei fossero più peccatori di tutti i galilei perché hanno sofferto tali cose no vi dico ma se non vi ravvedete tutti similmente perirete o quei diciotto sui quali cadde la torre di siloe e li uccise pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di gerusalemme no vi dico ma se non vi ravvedete tutti al pari di loro perirete disse pure questa parabola un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e andò a cercarvi del frutto e non ne trovò disse dunque al vignaiolo ecco sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo taglialo perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno ma l'altro rispondendo gli disse signore lascialo ancora quest'anno finché io l'abbia scalzato e concimato e forse darà frutto in avvenire se no lo taglierai ora egli stava insegnando in una delle sinagoge in giorno di sabato ed ecco una donna che da diciotto anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo e Gesù vedutala la chiamò a sé e le disse donna tu sei liberata dalla tua infermità e pose le mani su di lei ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il dio ora il capo della sinagoga sdegnato che Gesù avesse fatta una guarigione in giorno di sabato prese a dire alla moltitudine ci sono sei giorni nei quali sa da lavorare venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato ma il signore gli rispose e disse ipocriti non scioglie ciascuno di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarlo a bere e costei che figliuola di abramo e che satana aveva tenuta legata per ben diciotto anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato e mentre diceva queste cose tutti i suoi avversari erano confusi e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute diceva dunque a che è simile il regno di dio e a che l'assomiglierò io esso è simile ad un granel di senapa che un uomo ha preso e gettato nel suo orto ed è cresciuto ed è divenuto albero e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami e di nuovo disse a che assomiglierò il regno di dio esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staia di farina finché tutta sia lievitata ed egli attraversava man mano le città e i villaggi insegnando e facendo cammino verso gerusalemme e un tale gli disse signore sono pochi salvati ed egli disse loro forzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno da che il padron di casa si sarà alzato e avrà serrata la porta e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta dicendo signore aprisci egli rispondendo vi dirà io non so donde voi siate allora comincerete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ed egli dirà io vi dico che non so donde voi siate dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti quando vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e che voi ne sarete cacciati fuori e ne verranno d'Oriente e d'Occidente e da Settentrione e da Mezzogiorno che si porranno a mensa nel regno di Dio ed ecco ve ne saranno degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi in quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli parti e vattene di qui perché Erode ti vuol far morire ed egli disse loro andate a dire a quella volpe ecco io caccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno giungo al mio termine d'altronde bisogna che io cammini oggi e domani e postdomani perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme 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 che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta e io vi dico che non mi vedrete più finché venga il giorno che diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore capitolo 14 ed avvenne che essendo egli entrato in casa di uno dei principali farisei in giorno di sabato per prendere cibo essi lo stavano osservando ed ecco gli stava dinnanzi un uomo idropico e Gesù prese a dire ai dottori della legge ed ai farisei egli lecito o no fare guarigioni in giorno di sabato ma essi tacquero allora egli presolo lo guarì e lo licenziò poi disse loro chi di voi se un figliuolo o un bue cade in un pozzo non lo trae subito fuori in giorno di sabato ed essi non potevano rispondere nulla in contrario notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti disse loro questa parabola quando sarai invitato a nozze da qualcuno non ti mettere a tavola al primo posto che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te e chi ha invitato te e lui non venga a dirti cedi il posto a questo e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto ma quando sarai invitato va a metterti all'ultimo posto affinché quando colui che t'ha invitato verrà ti dica amico sali più in su allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teco a tavola poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà passato e diceva pure a colui che lo aveva invitato quando fai un desinare o una cena non chiamare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i vicini ricchi che talora anch'essi non ti invitino e ti sia reso il contraccambio ma quando fai un invito chiama i poveri gli storpi gli zoppi i ciechi e sarai beato perché non hanno modo di rendertene il contraccambio ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti ora uno dei commensali udite queste cose gli disse beato chi mangerà del pane nel regno di dio ma gesù gli disse un uomo fece una grande cena e invitò molti e all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati venite perché tutto è già pronto e tutti ad una voce cominciarono a scusarsi il primo gli disse ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere ti prego abbimi per riscusato e un altro disse ho comprato cinque paia di vuoi e vado a provarli ti prego abbimi per riscusato e un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire e il servitore tornato riferì queste cose al suo signore allora il padrone di casa adiratosi disse al suo servitore va presto per le piazze e per le vie della città e mena qua i poveri gli storpi i ciechi e gli zoppi poi il servitore disse signore si è fatto come hai comandato e ancora c'è posto e il signore disse al servitore va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena ora molte turbe andavano con lui ed egli rivoltosi disse loro se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle e fin anche la sua propria vita non può essere mio discepolo e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo infatti chi è fra voi colui che volendo edificare una torre non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire che talora quando ne abbia posto il fondamento e non la possa finire tutti quelli che la vedranno prendano a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a edificare e non ha potuto finire ovvero qual è il re che partendo per muovere guerra ad un altro re non si metta prima a sedere ed esamini se possa con diecimila uomini affrontare colui che gli viene contro con ventimila se no mentre quello è ancora lontano gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace così dunque ognuno di voi che non rinunzi a tutto quello che ha non può essere mio discepolo il sale certo è buono ma se anche il sale diventa insipido con che gli si darà sapore non serve né per terra né per concime lo si butta via chi ha orecchi da udire oda capitolo 15 ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo e così i farisei come gli scrivi mormoravano dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro ed egli disse loro questa parabola chi è l'uomo fra voi che avendo cento pecore se ne perde una non lasci le novantanove nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata e trovatala tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama insieme gli amici e vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo pecatore che si ravvede che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di ravvedimento ovvero qual è la donna che avendo dieci dramme se ne perde una non accenda un lume e non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata e quando l'ha trovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo rallegratevi meco perché ho ritrovata la dramma che avevo perduta così vi dico ve allegrezza dinanzi agli angeli di dio per un solo peccatore che si ravvede disse ancora un uomo aveva due figlioli e il più giovane di loro disse al padre padre dammi la parte dei beni che mi tocca ed egli spartì fra loro i beni e di lì a poco il figliolo più giovane messa insieme ogni cosa se ne partì per un paese lontano e qui vi dissipò la sua sostanza vivendo dissolutamente e quando ebbe speso ogni cosa una grande carestia sopravvenne in quel paese sicché egli cominciò ad essere nel bisogno e andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci ed egli avrebbe bramato impirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano ma nessuno gliene dava ma rientrato in sé disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui mi muoio di fame io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro te non sono più degno di essere chiamato tuo figliuolo trattami come uno dei tuoi servi egli dunque si levò e venne a suo padre ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò e il figliuolo gli disse padre ho peccato contro il cielo e contro te non sono più degno di essere chiamato tuo figliuolo ma il padre disse ai suoi servitori presto portate qua la veste più bella e rivestitelo e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi e menate fuori il vitello ingrassato ammazzatelo e mangiamo e rallecriamoci perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare gran festa ora il figliuolo maggiore era ai campi e come tornando fu vicino alla casa udì la musica e le danze e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire quello gli disse è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo ma egli si adirò e non volle entrare onde suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare ma egli rispondendo disse al padre ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando a me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato e il padre gli disse figliuolo tu sei sempre con me ed ogni cosa mia è tua ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita era perduto ed è stato ritrovato capitolo sedici Gesù diceva ancora ai suoi discepoli vera un uomo ricco che aveva un fattore il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni ed egli lo chiamò e gli disse che cos'è questo che odo di te rendi conto della tua amministrazione perché tu non puoi più essere mio fattore e il fattore disse fra sé che farò io dato che il padrone mi toglie l'amministrazione a zappare non sono buono a mendicare mi vergogno sto bene quello che farò affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua chiamati quindi a sé ad uno ad uno i debitori del suo padrone disse al primo quanto devi al mio padrone quello rispose cento batti d'olio e gli disse prendi la tua scritta siedi e scrivi presto cinquanta poi disse ad un altro e tu quanto devi quello rispose cento cori di grano e gli disse prendi la tua scritta e scrivi ottanta e il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza poiché i figlioli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figlioli della luce ed io vi dico fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste affinché quando esse verranno meno quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni chi è fedele nelle cose minime eppure fedele nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime eppure ingiusto nelle grandi se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste chi vi affiderà le vere e se non siete stati fedeli nell'altrui chi vi darà il vostro nessun domestico può servire a due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro o si atterrà l'uno e sprezzerà l'altro voi non potete servire a dio ed a mammona ora i farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui ed egli disse loro voi siete quelli che vi proclamate giusti innanzi agli uomini ma dio conosce i vostri cuori poiché quello che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a dio la legge ed i profeti hanno durato fino a giovanni da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di dio ed ognuno ventra a forza più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio ora vera un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso e ogni giorno godeva splendidamente e vera un pover uomo chiamato lazzaro che giaceva la porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di abramo morì anche il ricco e fu seppellito e nell'ades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano abramo e lazzaro nel suo seno ed esclamò padre abramo abbi pietà di me e manda lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma ma abramo disse figliuolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che lazzaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una grande voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque o padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento abramo disse hanno mosè e i profeti ascoltino quelli ed egli no padre abramo ma se uno va a loro dai morti si ravvedranno ma abramo rispose se non ascoltano mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse capitolo diciassette disse poi ai suoi discepoli è impossibile che non avvengano scandali ma guai a colui per cui avvengono meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli badate a voi stessi se il tuo fratello pecca riprendilo e se si pente perdonagli e se ha peccato contro te sette volte al giorno e sette volte torna a te ti dice mi pento perdonagli allora gli apostoli dissero al signore aumentaci la fede e il signore disse se aveste fede quant'è un granello di senapa potreste dire a questo moro sradicati e trapiantati nel mare e vi ubbidirebbe ora chi di voi avendo un servo ad arare o pascere quando egli torna a casa dai campi gli dirà vieni presto a metterti a tavola non gli dirà invece preparami da cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto e poi mangerai e berrai tu ti ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli così anche voi quando avete fatto tutto ciò che v'è comandato dite noi siamo servi inutili abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare ed avvenne che nel recarsi a gerusalemme egli passava sui confini della samaria e della galilea e come entrava in un certo villaggio gli si fecero incontro dieci uomini lebrosi i quali fermatisi da lontano alzarono la voce dicendo Gesù maestro abbi pietà di noi e vedutili egli disse loro andate a mostrarvi ai sacerdoti e avvenne che mentre andavano furono mondati e uno di loro vedendo che era guarito tornò indietro glorificando il dio ad alta voce e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo e questo era un samaritano Gesù rispondendo disse i dieci non sono stati tutti mondati e i nove altri dove sono non si è trovato alcuno che sia tornato per dare gloria a dio fuori che questo straniero egli disse levati e vattene la tua fede ti ha salvato interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di dio rispose loro dicendo il regno di dio non viene in maniera da attirare gli sguardi né si dirà eccolo qui o eccolo là perché ecco il regno di dio è dentro di voi disse pure ai suoi discepoli verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete e vi si dirà eccolo là eccolo qui non andate e non li seguite perché come il lampo che balenando risplende da una estremità all'altra del cielo così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno ma prima bisogna che gli soffra molte cose e sia reietto da questa generazione e come avvenne ai giorni di Noè così pure avverrà ai giorni del figliuolo dell'uomo si mangiava si beveva si prendeva moglie si andava a marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot si mangiava si beveva si comprava si vendeva si piantava si edificava ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma piove dal cero fuoco e zolfo che li fece tutti perire lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato in quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla e parimenti chi sarà nei campi non torni indietro ricordatevi della moglie di Lot chi cercherà di salvare la sua vita la perderà ma chi la perderà la preserverà io ve lo dico in quella notte due saranno in un letto l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno assieme l'una sarà presa e l'altra lasciata due uomini saranno ai campi l'uno sarà preso e l'altro lasciato i discepoli risposero dove sarà signore ed egli disse loro dove sarà il corpo i vianche le aquile si raduneranno capitolo diciotto propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi in una certa città vi era un giudice che non temeva il dio né aveva rispetto di alcun uomo e in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario ed egli per un tempo non volle farlo ma poi disse fra sé benché io non tema il dio e non abbia rispetto per alcun uomo pure poiché questa vedova mi dà molestia le farò giustizia che talora a forza di venire non ferisca corrompermi la testa e il signore disse ascoltate quello che dice il giudice inico e dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarà egli tardo per loro io vi dico che farà loro prontamente giustizia ma quando il figliuolo dell'uomo verrà troverà egli la fede sulla terra e disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri due uomini salirono al tempio per pregare l'uno fariseo e l'altro pubblicano il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé o dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini rapaci ingiusti adulteri neppure come quel pubblicano io digiuno due volte la settimana pago la decima su tutto quello che possiedo ma il pubblicano stando da lontano non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo o dio si placato verso me peccatore io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro perché chiunque si innalza sarà abbassato ma chi si abbassa sarà innalzato ora gli recavano anche i bambini perché li toccasse ma i discepoli veduto questo sgridavano quelli che glieli recavano ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse lasciate lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate perché di tali è il regno di dio in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso e uno dei principali lo interrogò dicendo maestro buono che farò io per ereditare la vita eterna e Gesù gli disse perché mi chiami buono nessuno è buono salvo uno solo cioè dio tu sai i comandamenti non commettere adulterio non uccidere non rubare non dire falsa testimonianza onora tuo padre e tua madre ed egli rispose tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia fanciullezza e Gesù udito questo gli disse una cosa ti manca ancora vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo poi vieni e seguitami ma egli udite queste cose ne fu grandemente attristato perché era molto ricco e Gesù vedendolo a quel modo disse quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di dio poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna ad un ago che ad un ricco entrare nel regno di dio e quelli che udirono questo dissero chi dunque può essere salvato ma egli rispose le cose impossibili agli uomini sono possibili a dio e pietro disse ecco noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato ed egli disse loro io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figlioli per amore del regno di dio il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo avvenire la vita eterna poi presi con sé i dodici disse loro ecco noi saliamo a gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliuolo dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e li sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno ma il terzo giorno risusciterà ed essi non capirono nulla di queste cose quel parlare era per loro oscuro e non intendevano le cose dette loro ora avvenne che come egli si avvicinava a gelico un certo cieco sedeva presso la strada mendicando e odendo la folla che passava domandò che cosa fosse e gli fecero sapere che passava Gesù in Nazareno allora egli gridò Gesù figliuol di Davide abbi pietà di me e quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse ma lui gridava più forte figliuol di Davide abbi pietà di me e Gesù fermatosi comandò che gli fosse menato e quando gli fu vicino gli domandò che vuoi tu che io ti faccia ed egli disse signore che io recuperi la vista e Gesù gli disse ricupera la vista la tua fede ti ha salvato e in quell'istante ricuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio e tutto il popolo veduto ciò diede lode a Dio capitolo 19 e Gesù essendo entrato in Gerico attraversava la città ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo il quale era capo dei pubblicani ed era ricco cercava di vedere chi era Gesù ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo perché gli aveva da passare per quella via e come Gesù fu giunto in quel luogo alzati gli occhi gli disse Zaccheo scendi presto perché oggi debbo albergare in casa tua ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con allegrezza e veduto ciò tutti mormoravano dicendo è andato ad albergare da un peccatore ma Zaccheo presentatosi al signore gli disse ecco signore la metà dei miei beni la do ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadro e Gesù gli disse oggi la salvezza è entrata in questa casa poiché anche questo è figliuolo di Abramo poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito ora come essi ascoltavano queste cose Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente disse dunque un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare e chiamati a sé dieci suoi servitori diede loro dieci mine e disse loro trafficate finché io venga ma i suoi concittadini lo odiavano e li mandarono dietro un'ambasciata per dire non vogliamo che costui regni su noi ed avvenne quando egli fu tornato dopo avere ricevuto l'investitura del regno che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando si presentò il primo e disse signore la tua mina ne ha fruttate altre dieci ed egli gli disse va bene buon servitore poiché sei stato fedele in cosa minima abbi potestà su dieci città poi venne il secondo dicendo la tua mina signore ha fruttato cinque mine ed egli disse anche a questo e tu si sopra cinque città poi ne venne un altro che disse signore ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto perché ho avuto paura di te che sei uomo duro tu prendi quello che non hai messo e mieti quello che non hai seminato e il padrone a lui dalle tue parole ti giudicherò servo malvagio tu sapevi che io sono un uomo duro che prendo quello che non ho messo e mieto quello che non ho seminato e perché non hai messo il mio denaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse poi disse a coloro che erano presenti toglietegli la mina e datela a colui che ha le dieci mine e si gli dissero signore egli ha dieci mine io vi dico che a chiunque ha sarà dato ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha quanto poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro menateli qua e scannateli in mia presenza e dette queste cose Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme e avvenne che come fu vicino a Betfage e a Betania presso il monte detto degli olivi mandò due dei discepoli dicendo andate nella borgata di rimpetto nella quale entrando troverete legato un puledro d'asino sopra il quale non è mai montato alcuno toglietelo e menatemelo e se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete direte così il signore ne ha bisogno e quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva loro detto e come essi scioglievano il puledro i suoi padroni dissero loro perché sciogliete il puledro essi risposero il signore ne ha bisogno e lo menarono a Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero montare Gesù e mentre egli andava innanzi stendevano i loro mantelli sulla via e come era già presto la città all'ascesa del monte degli olivi tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a grande voce per tutte le opere potenti che avevano vedute dicendo benedetto il re che viene nel nome del signore pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi e alcuni dei farisei di tra la folla gli dissero maestro sgrida i tuoi discepoli ed egli rispondendo disse io vi dico che se costoro si tacciano le pietre grideranno e come si fu avvicinato vedendo la città pianse su di lei dicendo o se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace ma ora è nascosto agli occhi tuoi perché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figlioli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata poi entrato nel tempio cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano dicendo loro egli è scritto la mia casa sarà una casa adorazione ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni ed ogni giorno insegnava nel tempio ma i capi sacerdoti e gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire ma non sapevano come fare perché tutto il popolo ascoltandolo pendeva dalle sue labbra capitolo 20 e avvenne uno di quei giorni che mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava sopraggiunsero i capi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli parlarono così dici con quale autorità tu fai queste cose e chi t'ha data codesta autorità ed egli rispondendo disse loro anch'io vi domanderò una cosa ditemela il battesimo di giovanni era dal cielo o dagli uomini ed essi ragionavano fra loro dicendo se diciamo dal cielo egli ci dirà perché non gli credeste ma se diciamo dagli uomini tutto il popolo ci lapiderà perché è persuaso che giovanni era un profeta e risposero che non sapevano donde fosse e gesù disse loro neppure io vi dico con quale autorità fu queste cose poi prese a dire al popolo questa parabola un uomo piantò una vigna l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo e nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero il frutto della vigna ma i lavoratori battutolo lo rimandarono a mani vuote ed egli di nuovo mandò un altro servitore ma essi dopo avere battuto e vituperato anche questo lo rimandarono a mani vuote ed egli ne mandò ancora un terzo ed essi dopo aver ferito anche questo lo scacciarono allora il padrone della vigna disse che farò manderò il mio diletto figliuolo forse a lui porteranno rispetto ma quando i lavoratori lo videro fecero tra loro questo ragionamento costui e l'erede uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra e cacciatolo fuori dalla vigna lo uccisero che farà loro dunque il padrone della vigna verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri ed essi udito ciò dissero così non sia ma egli guardatili in faccia disse che vuol dire dunque questo che è scritto la pietra che gli edificatori hanno riprovata e quella che è divenuta pietra angolare chiunque cadrà su quella pietra sarà sfracellato ed ella stritorerà colui sul quale cadrà egli scrivi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora ma temettero il popolo perché si avvisero bene che egli aveva detto quella parabola per loro e essendosi messi ad osservarlo gli mandarono delle spie che simulassero d'essere giusti per coglierlo in parole a fine di darlo in mano dell'autorità e del potere del governatore e quelli gli fecero una domanda dicendo maestro noi sappiamo che tu parli e insegni dirittamente e non hai riguardi personali ma insegni la via di dio secondo verità egli lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no ma egli avvedutosi della loro astuzia disse loro mostratemi un denaro di chi porta le figie e l'iscrizione ed essi dissero di Cesare ed egli a loro rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo e maravigliati della sua risposta si tacquero poi accostatisi alcuni dei sadducei i quali negano che ci sia risurrezione lo interrogarono dicendo maestro Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore avendo moglie ma senza figli il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello ora verano sette fratelli il primo prese moglie e morì senza figliuoli il secondo pure la sposò poi il terzo e così fu dei sette non lasciarono figliuoli e morirono in ultimo anche la donna morì nella risurrezione dunque la donna di chi di loro sarà moglie perché i sette l'hanno avuta per moglie e Gesù disse loro i figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati ma quelli che saranno reputati degni di avere parte al secolo avvenire e alla risurrezione dai morti non sposano e non sono sposati perché neanche possono più morire giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di dio essendo figliuoli della risurrezione che poi i morti risuscitino anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno quando chiama il signore di dio d'Abramo di dio di sacco e di dio di Giacobbe ora egli non è un dio di morti ma di viventi poiché per lui vivono tutti e alcuni degli scribi rispondendo dissero maestro hai detto bene e non ardivano più fargli alcuna domanda ed egli disse loro come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide poiché Davide stesso nel libro dei salmi dice il signore ha detto al mio signore siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi Davide dunque lo chiama signore e come è egli suo figliuolo e udendolo tutto il popolo egli disse ai suoi discepoli guardatevi dagli scrivi i quali passeggiano volentieri in lunghi in e i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei conviti essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni costoro riceveranno maggiore condanna capitolo 21 poi alzati gli occhi Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte vide pure una vedova poveretta che vi gettava due spiccioli e disse in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo ma costei del suo necessario va gettato tutto quanto aveva per vivere e facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati e gli disse quante a queste cose che voi contemplate verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata ed essi li domandarono maestro quando avverranno dunque queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui queste cose saranno per succedere ed egli disse guardate di non essere sedotti perché molti verranno sotto il mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino non andate dietro a loro e quando odrete parlare di guerre e di sommosse non siate spaventati perché bisogna che queste cose avvengano prima ma alla fine non verrà subito dopo allora disse loro si deverà nazione contro nazione e regno contro regno vi saranno grandi terremoti ed in diversi luoghi pestilenze e carestie vi saranno fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno dandovi in mano delle sinagoge e mettendovi in prigione traendovi dinanzi al re e governatori a cagione del mio nome ma ciò vi darà l'occasione di rendere testimonianza mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa perché io vi darò una parola e una sapienza alle quale tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire ora voi sarete traditi perfino dai genitori da fratelli da parenti e da amici faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome ma neppure un capello del vostro capo perirà con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre quando vedrete gerusalemme circondata di eserciti sappiate allora che la sua desolazione è vicina allora quelli che sono in giudea fuggano ai monti e quelli che sono nella città se ne partano e quelli che sono per la campagna non entrino in lei perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà grande distretta nel paese ed ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti e vi saranno dei segni nel sole nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia delle nazioni sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde gli uomini venendo meno per la paurosa aspettazione di quello che sarà per accadere al mondo poiché le potenze dei cieli saranno scrollate e allora vedranno il figliuolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e grande gloria ma quando queste cose cominceranno ad avvenire rialzatevi levate il capo perché la vostra redenzione è vicina e disse loro una parabola guardate il fico e tutti gli alberi quando cominciano a germogliare voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate ormai vicina così anche voi quando vedrete avvenire queste cose sappiate che il regno di dio è vicino in verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula da ubriachezza o dalle ansiose sollecitudini di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio perché verrà soprattutto tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra vegliate dunque pregando in ogni tempo affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliolo dell'uomo ora di giorno egli insegnava nel tempio e la notte usciva e la passava sul monte detto degli ulivi e tutto il popolo la mattina di buon'ora veniva a lui nel tempio per udirlo capitolo 22 ora la festa degli azimi detta la pasqua si avvicinava e i capi sacerdoti e gli iscrivi cercavano il modo di farlo morire perché temevano il popolo e Satana entrò in Giuda chiamato Iscariota che era del numero dei dodici ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo di nascosto alla folla ora venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la pasqua e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo andate a prepararci la pasqua affinché la mangiamo ed essi gli dissero dove vuoi che la prepariamo ed egli disse loro ecco quando sarete entrati nella città vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua seguitelo nella casa dove egli entrerà e dite al padrone di casa il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la pasqua coi miei discepoli ed egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata qui vi apparecchiate ed essi andarono e trovarono come egli aveva loro detto e prepararono la pasqua e quando l'ora fu venuta egli si mise a tavola e gli apostoli con lui ed egli disse loro ho grandemente desiderato di mangiare questa pasqua con voi prima che io soffra poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di dio e avendo preso un calice rese grazie e disse prendete questo e distribuitelo fra voi perché io vi dico che oramai non verò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di dio poi avendo preso del pane rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo il quale è dato per voi fate questo in memoria di me parimenti ancora dopo aver cenato dette loro il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue il quale è sparso per voi del resto ecco la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola poiché il figliuolo dell'uomo certo se ne va secondo che è determinato ma guai a quell'uomo dal quale è tradito ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai quello di loro che farebbe questo nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore ma egli disse loro i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori ma tra voi non ha da essere così anzi il maggiore fra voi sia come il minore e chi governa come colui che serve poiché chi è maggiore colui che è a tavola oppure colui che serve non è forse colui che è a tavola ma io sono in mezzo a voi come colui che serve ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io dispongo che vi sia dato un regno come il padre mio ha disposto che fosse dato a me affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni giudicando le dodici tribù di israele simone simone ecco satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai convertito conferma ai tuoi fratelli ma egli gli disse signore con te son pronto ad andare in prigione e dalla morte e Gesù Pietro io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi poi disse loro quando vi mandai senza borsa senza sacca da viaggio e senza calzari vi mancò mai niente ed essi risposero niente ed egli disse loro ma ora chi ha una borsa la prenda e parimenti una sacca e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una poiché io vi dico che questo che è scritto deve essere adempito in me ed egli è stato annoverato fra i malfattori infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi ed essi dissero signore ecco qui due spade ma egli disse loro basta poi essendo uscito andò secondo il suo solito al monte degli olivi ed anche i discepoli lo seguirono e giunto che fu sul luogo disse loro pregate chiedendo di non entrare in tentazione ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo padre se tu vuoi allontana da me questo calice però non la mia volontà ma la tua sia fatta e un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo ed essendo in agonia egli pregava vie più intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra e alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza e disse loro perché dormite alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione mentre parlava ancora ecco una turba e colui che si chiamava Giuda uno dei dodici la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo ma Gesù gli disse Giuda tradisci tu il figliuolo dell'uomo con un bacio e quelli che erano con lui vedendo quello che stava per succedere dissero Signore percoteremo noi con la spada e uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro ma Gesù rivolse loro la parola e disse lasciate basta e toccato l'orecchio di colui lo guarì e Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui voi siete usciti con spade e bastoni come contro ad un ladrone mentre ero ogni giorno con voi nel tempio non mi avete mai messo le mani addosso ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre e presolo lo menarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano e avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere insieme Pietro si sedette in mezzo a loro e una certa serva vedutolo sedere presso il fuoco e avendolo guardato fisso disse anche costui era con lui ma egli negò dicendo donna io non lo conosco e poco dopo un altro vedutolo disse anche tu sei di quelli ma Pietro rispose o uomo non lo sono e trascorsa circa un'ora un altro affermava lo stesso dicendo certo anche costui era con lui poiché egli è Galileo ma Pietro disse o uomo io non so quello che tu dica e subito mentre gli parlava ancora il gallo cantò e il signore voltatosi riguardò Pietro e Pietro si ricordò della parola del signore come egli gli aveva detto prima che il gallo canti oggi tu mi rinnegherai tre volte e uscito fuori pianse amaramente e gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo e avendolo bendato gli domandavano indovina profeta chi t'ha percosso e molte altre cose dicevano contro a lui bestemmiando e come fu giorno gli anziani del popolo i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e lomenarono nel loro sinedrio dicendo se tu sei il Cristo diccelo ma egli disse loro se ve lo dicessi non credereste e se io vi facessi delle domande non rispondereste ma da ora innanzi il figliuolo dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio e tutti dissero sei tu dunque il figliuolo di Dio ed egli rispose loro voi lo dite poiché io lo sono e quelli dissero che bisogno abbiamo ancora di testimonianza noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca capitolo 23 poi levatasi tutta l'assemblea lomenarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo abbiamo trovato costui che sorvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re e Pilato lo interrogò dicendo sei tu il re dei giudei ed egli rispondendo gli disse sì lo sono e Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe io non trovo colpa alcuna in questo uomo ma essi insistevano dicendo egli solleva il popolo insegnando per tutta la giudea ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui quando Pilato udì questo domandò se quell'uomo fosse Galileo e saputo che egli era della giurisdizione di Erode lo rimandò a Erode che era anche egli a Gerusalemme in quei giorni Erode come vide Gesù se ne rallegrò grandemente perché dal lungo tempo desiderava vederlo avendo sentito parlare di lui e sperava di vedergli fare qualche miracolo e gli rivolse molte domande ma Gesù non gli rispose nulla ora i capi sacerdoti e gli iscrivi stavano là accusandolo con veemenza ed Erode con i suoi soldati dopo averlo villipeso e schernito lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato e in quel giorno Erode e Pilato divennero amici perché per là dietro erano stati in inimicizia fra loro e Pilato chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo disse loro voi mi avete fatto comparire dinnanzi questo uomo come sovvertitore del popolo ed ecco dopo averlo in presenza vostra esaminato non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui lo accusate e neppure Erode poiché Egli l'ha rimandato a noi ed ecco Egli non ha fatto nulla che sia degno di morte io dunque dopo averlo castigato lo libererò ora Egli era in obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa ma essi gridarono tutti insieme fa morire costui e liberaci Barabba Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio e Pilato da capo parò loro desiderando liberare Gesù ma essi gridavano crocifiggilo crocifiggilo e per la terza volta Egli disse loro ma che male ha fatto io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte io dunque dopo averlo castigato lo libererò ma essi insistevano con gran grida chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida finirlo con avere il sopravvento e Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che essi avevano richiesto ma abbandonò Gesù alla loro volontà e mentre lo menavano via presero un certo Simone Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù ora lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui ma Gesù voltatosi verso di loro disse figliuole di Gerusalemme non piangete per me ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli perché ecco vengono i giorni nei quali si derà beate le sterili e i seni che non hanno partolito e le mammelle che non hanno allattato allora prenderanno a dire ai monti cadeteci addosso e ai colli copriteci poiché se fan queste cose a legno verde che sarà egli fatto al secco ora due altri due malfattori erano menati con lui per essere fatti morire e quando furono giunti al luogo detto il teschio crocifissero quivi lui e i malfattori l'uno a destra e l'altro a sinistra e Gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno poi fatte delle parti delle sue vesti trassero a sorte e il popolo stava a guardare ed anche i magistrati si facevano beffe di lui dicendo ha salvato altri salvi se stesso sei il Cristo l'eletto di Dio e i soldati pure lo schernivano accostandosi presentandogli dell'aceto e dicendo se tu sei il re dei giudei salva te stesso è vera anche questa iscrizione sopra il suo capo questo è il re dei giudei e uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo non sei tu il Cristo salva te stesso e noi ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva non hai tu nemmeno timore di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio e per noi è cosa giusta perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti ma questi non ha fatto nulla di male e diceva Gesù ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno e Gesù gli disse io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso ora era circa l'ora sesta e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona essendosi oscurato il sole la cortina del tempio si squarciò per mezzo e Gesù gridando con grande voce disse padre nelle tue mani rimetto lo spirito mio e detto questo pirò e il centurione veduto ciò che era accaduto glorificava il Dio dicendo veramente quest'uomo era giusto e tutte le turbe che si erano radunate a questo spettacolo vedute le cose che erano successe se ne tornavano battendosi il petto ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano ed ecco un uomo per nome Giuseppe che era consigliere uomo da bene giusto il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri ed era da Arimatea città dei Giudei e aspettava il regno di Dio venne appilato e chiese il corpo di Gesù e trattolo giù di croce lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba scavata nella roccia dove nessuno era ancora stato posto era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato e le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea avendo seguito Giuseppe guardarono la tomba e come verrà stato posto il corpo di Gesù poi essendosene tornate prepararono aromi ed oli odoriferi capitolo 24 durante il sabato si riposarono secondo il comandamento ma il primo giorno della settimana la mattina molto per tempo esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù ed avvenne che mentre se ne stavano perplesse di ciò ecco che appalvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra essi dissero loro perché cercate il vivente fra i morti egli non è qui ma è risuscitato ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea dicendo che il figliuolo dell'uomo doveva essere dato nelle mani d'uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare ed esse si ricordarono delle sue parole e tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri ora quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena Giovanna Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro e quelle parole parvero loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne ma Pietro levatosi corse al sepolcro ed essendosi chinato a guardare vide le sole lenzuola e se ne andò maravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto ed ecco due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio nominato Emmaus distante da Gerusalemme sessanta stadi e discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo ed egli domandò loro che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo ed essi si fermarono tutti mesti e l'uno dei due per nome Cleopa rispondendo gli disse tu solo tra i forestieri stando in Gerusalemme non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni ed egli disse loro quali ed essi gli risposero il fatto di Gesù Nazareno che era un profeta potente in opere ed in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisto ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele invece con tutto ciò ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute vero è che certe donne din fra noi ci hanno fatto stupire essendo andate la mattina di buon ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui sono venute dicendo da aver avuto anche una visione d'angeli i quali dicono che egli vive e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne ma lui non l'hanno veduto allora Gesù disse loro o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti piegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano e quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano egli fece come se volesse andare più oltre ed essi gli fecero forza dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato ed egli entrò per rimanere con loro e quando si fu messo a tavola con loro prese il pane lo benedisse e spezzatolo lo dette loro e gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero ma egli sparì dinanzi a loro ed essi dissero l'uno all'altro non ardeva il cuore nostro in noi mentre egli ci parlava per la via mentre ci spiegava le scritture e levatisi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro i quali dicevano il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane ora mentre essi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani ed i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostro loro le mani e i piedi ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano disse loro avete qui nulla da mangiare essi gli portero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza poi disse loro queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi fossero adempiute allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro così è scritto che il cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme ora voi siete testimoni di queste cose ed ecco io mando su voi quello che il padre mio ha promesso quante a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza poi li condusse fuori fino presso betania e levate in alto le mani li benedisse e avvenne che mentre li benediva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo ed essi adoratolo tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano del continuo nel tempio benedicendo il dio